Erano passate da poco le 19, il 31 marzo di 25 anni fa, quando un uomo perbene, funzionario scrupoloso ed onesto, direttore dell'ufficio del registro di Foggia, veniva affreddato con due colpi di pistola alla nuca nell'androne del palazzo dove abitava. Era Francesco Marcone, 57 anni, marito e padre, uomo onesto, che sette giorni prima aveva usato denunciare con un esposto alla procura della Repubblica di Foggia un giro di malaffare messo in atto da falsi mediatori che garantivano dietro pagamento il rapido disbrigo di pratiche d'ufficio. Tra le braccia stringeva ancora quelle pratiche, oggetto di studio che lo rendevano dirigente esemplare, che non arretrava di fronte alle sue responsabilità. Oggi, a 25 anni dalla sua morte, Daniela Marcone, presidente del Comitato di Libera, donna fiera e forte, raccoglie l'eredità più grande consegnata lì da suo padre. Coraggio ed onestà. E qui, nella terra del malaffare, è in prima linea per la battaglia più grande del territorio, quella della lotta al crimine. Ieri ad un incontro con i giovani studenti del Volta ha fatto un appello, combattiamo la mafia con la cultura, con i fatti, senza perdersi nella retorica delle parole. Io non ho tanta voglia di celebrazioni, ho in mente delle azioni concrete, vorrei istituire un fondo librario dedicato a papà e a sua sorella Maria Marcone per permettere ai più giovani di trovare in biblioteca dei libri aggiornati su cui poter studiare, approfondire, anche narrativa di valore, di qualità. La nostra biblioteca fa tantissimo. Vorrei che loro fossero al mio fianco in questa battaglia culturale. Ed è il motivo per cui, ci dice, vorrà ricordare suo padre, non per celebrarlo, ma per diffondere e tenere viva la memoria di un uomo coraggioso che seppe dire no a corruzione e malaffare, perché resti esempio vivo per ognuno. Credo che noi adulti dobbiamo fare un lavoro in mane per loro, ovviamente, per noi e per loro. E loro mi hanno chiesto, noi come cittadini, cosa possiamo fare. Io ho continuato a dire loro, informatevi a 360 gradi su quello che si fa in questo territorio e raccontatelo voi da ragazzi, da giovani. Imparate a raccontarlo, scrivendolo, raccontandolo sui social, combattendo la violenza anche, la violenza del linguaggio.